Se vado lontano per me, si che fanno di tagli e dopo parvole come per me. Perché poi, se poi devo tagliare, vado prendendo poco poco, però se faccio tutto insieme no, poi è complicato. Quando ho conosciuto Katherine, pensavo di aver trovato una pianta strappata da terra, ma ora mi rendo conto di aver incontrato una pianta in un vaso e una ferraia. Poi questi qua io li prendo forse. Sempre poco poco. Grazie. 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 Grazie.